La musica opera il miracolo, aiuta, forma, educa, dà un'alternativa e consente di viaggiare con il corpo e con l'anima. È per questo che nell'ultima edizione del Sentiero degli Idei di Agerola è stato inserito in cartellone l'incontro sinfonicamente. Sesto concerto del festival, il cui ciclo di incontri musicali è stato ideato da Gino Avetta. L'orchestra sinfonica dei quartieri spagnoli è stata fondata da Enzo De Paola e Giuseppe Mallozzi con l'obiettivo di coinvolgere nell'educazione musicale i ragazzi a rischio delinquenza dei quartieri spagnoli. Ascoltiamo Enzo De Paola. Veniamo da un periodo oscuro perché per il Covid normalmente abbiamo fatto lezioni a distanza, però venerdì scorso abbiamo fatto un bel concerto alla reggia di Carditello e stasera finalmente ci troviamo a De Agerola, al Sentiero degli Dei. L'orchestra sinfonica dei quartieri spagnoli ha scelto Maurizio Casagrande. C'è lui nelle vesti di direttore. Ritorno nei luoghi belli, quindi perché non tornare qua, che è uno dei posti più belli del mondo. Quindi stasera, a un certo punto, dopo una serata magica fatta di bella musica, pioverà per colpa mia perché riuscirò a far andare male un'orchestra di ragazzi bravissimi che suonano benissimo ma che grazie alla mia direzione faranno una bruttissima figura.